Buon pomeriggio a tutti dall'Internorm Arena di Bolzano, dove tra pochi minuti prenderà via la stra-regionale del Trentino Altradige. Tra i padroni di casa, la Virtus Bolzano e il Trento, si gioca in una giornata di pieno sole, in uno splendido scenario davanti a pochi intimi. Purtroppo questa è una costante e una partita di questo tipo, una partita così sentita, una partita così vissuta, avrebbe avuto bisogno di tutt'altro scenario. Tutto è pronto per il calcio d'inizio con la Virtus Bolzano che darà il via al match e toccherà il primo pallone. Partito è iniziato il derby, è iniziata la stra-regionale del Trentino Altradige. Adesso per Brann, Brann cerca la giocata lunga all'indirizzo di Ferrimarini, Ferrimarini contro tre difensori. Carella protegge il proprio portiere che sembrava voler uscire pari, ancora 30 in avanti, la conclusione di Santuari. La risposta in qualche modo ancora, palla ancora viva la conclusione di Ferrimarini, bandierina alzata. Brann crosserà al centro, Brann prova a guadagnare la linea di fondo, resiste al tentativo di ritorno di un avversario. Il traversone morbido a centrale per Ferrimarini, la sponda di Ferrimarini, la girata di Aliu e viene salvata sulla linea, ci è sembrata da Rizzone, Rizz massimale per il difensore destro del Trento che intendeva servire all'IU. Raddoppiato ancora Brann, Brann cross, attenzione sul primo pallone, colpo in testa e il gol di Belcastro. Ha segnato Belcastro il più piccolo del tridente offensivo. Perfetto il cross di Brann, perfetto il cross di Brann e perfetto il colpo di testa di Belcastro che sul primo palo tutto solo ha girato imparabilmente in rete dal limite dell'area picco. Si sono in movimento, Trevisan ormai già da qualche minuto, sì dovrebbe avvenire la... Attenzione adesso c'è la conclusione, grandissimo gol di Arnaldo Captina. Stavamo guardando cosa stava accadendo sulla panchina giallo-blu e invece Arnaldo Captina ha lasciato partire un proiettile da 30 metri che si è insaccato all'incrocio dei pali. Beh, se quello di Belcastro è stato un bel gol, quello di Captina è un vero e proprio euro-goal. Arnaldo, la formazione giallo-blu nel frattempo si sta preparando e cambia attenzione. Altro traversone in mezzo all'area e la combina grossa chi cae? La combina non grossa, enorme chi cae? Che su un traversone che sembrava assolutamente innocuo. A favore della Virtus Bolzano sul pallone c'è Bonu che sceglie la traiettoria sul primo palo. Traiettoria, palla che gira, ha calciato con le tre dita Bonu. E palla all'atto di poco. Un tocco leggero a parte di Unisi, il traversone a centrale proprio per Osorio. Buono, lo stoppa a seguire, poi c'è una caduta, c'è una caduta, c'è una caduta. La Virtus Bolzano chiede timidamente un provvedimento a parte di rettori gara. Non si scambiano proprio carezze con Forti, ma possesso che rimane ancora tra i piedi di Belcastro. Abilissimo, liberarsi di traversone precisa a centrale. Il colpo di testa da parte di Aliyuk. Bravo nella protezione della sfera. Prova a uscire dal traffico Rivi, contrastato da tre avversari. Perde il possesso della sfera, attenzione, il tocco in verticale di Catina per Osorio. Poi c'è la conclusione di Timpone che si è ritrovato il pallone. Timpone andrà all'uno contro uno, no, sceglie il filtrante basso. Ancora Timpone, attenzione, Timpone in area per Osorio. Non si alza la bandierina, la conclusione di Timpone. E c'è il gol della Virtus Bolzano che al minuto a 36 della ripresa previene al pareggio. con il neo entrato Timpone che ha avviato l'azione, ha sfruttato la sponda. Schema su calcio piazzato, così infatti parte la traiettoria di Gatto. Si abbasso i difensori, c'è l'inserimento di tre notti, palla centrale, c'è una caduta. Rimette fuori il pallone alla difesa Virtusina. Il controcross di Santuario a cercare tre notti. La sponda per Belcastro, da due passi Belcastro. Calcio di controbalza era tutto buono. Era tutto buono perché la bandierina dell'assistente arbitrale non si è alzata. Vintra Caporali, anche egli al rientro, che sa, gira tutto campo. Il centrocampista con il vizio del gol. Quindi Caporali va a girare all'interno. Attenzione, adesso c'è una spizzata in mezzo all'area di rigore. C'è un tocco sospetto da parte di un difensore da Virtus Bolzano. Però palla che rimane nel possesso da Virtus. Prova a uscire ancora di potenza. Gatto Belcastro apre a sinistra per Tenazzi. Ma subito dopo, subito dopo il controllo dell'esterno di scuola Inter, arriva il triplice fischio del direttore di gara che mette fine alle ostilità. All'Inter Norma Arena, Virtus Bolzano e Trento chiudono la strada regionale, chiudono il derby. Un gran bel derby, dobbiamo dire, con tante emozioni. Un derby combattuto e complessivamente assolutamente corretto sul punteggio di 2 a 2. Grazie a tutti.